Domande, Domenico? Sì, il coach del Permanente cosa mi dice? È un altro obiettivo che ci vogliamo porre? Mi fa molto piacere la domanda perché è ovvio che di questo premio sarà bene parlarne proprio come fatto compiuto non appena, se saremo capaci, avremo la matematica certezza della permanenza in silver perché come è noto senza la permanenza non c'è neanche il premio Ander però è un dato di fatto obiettivo che esclusa Bari che chiaramente ha dovuto fare una scelta che non è comparabile alla nostra loro hanno una squadra da inizio di sempre in poi solo di Ander ma sta anche ovviamente rimediando una sconfitta ampia dopo l'altra noi siamo la compagine che sicuramente in tutti i calcoli possibili immaginabili anche escludendo i minuti di Bari o includendoli considerando Lucca in un modo o in un altro modo in tutte le possibili combinazioni matematiche noi siamo quella compagine che ha più di tutti utilizzato gli Ander direi che questo sia un risultato per tanti versi non so se ricordi quando parlavamo qualche settimana fa di coloro che consumano i giocatori e di coloro che invece lavorano a produrre dei giocatori il termine è orripilante, produrre sembra una catena di montaggio tayloriano insomma che mal si concilia con il fatto che i giocatori siano persone innanzitutto però sicuramente dare delle grandi possibilità di crescita ai giocatori è un qualcosa che da luglio il progetto tecnico recependo delle indicazioni del presidente Muscolino si è posto come obiettivi però noi a luglio dovevamo concorrere al premio Ander e sapevamo di competere con delle compaggini che in questo campionato magari dispongono di l'atto finale di una crescita per ciò che concerne le categorie giovanili che ha visto anche tre finali consecutive giovanili Under 13, Under 15, Under 17 competiamo con delle compaggini che magari hanno espresso dal loro vivaio una stella NBA, un giocatore nazionale tanti giocatori in lega La Viola sicuramente approcciava questa stagione sulla scorta di una tradizione straordinaria il lavoro che è stato fatto qui negli anni 80-90 da allenatori di grandissima qualità tecnica che si chiamano Gaetano Gembia che si chiamano Gianni Tripodi che si chiamano Giovanni Benedetto che si chiamano Massimo Bianchi ne dimentico sicuramente tanti altri hanno prodotto dei giocatori anche in quel caso ad altissimi livelli europei e non solo però è anche un contesto che si è dovuto ridare grazie all'eccellente lavoro di Pasquale Iracà della scuola Basket Viola una ridefinizione di progetto pochi anni fa e purtroppo non arrivavamo a questa stagione con un recente passato di finale nazionale di giocatori espressione ai massimi livelli quindi il fatto che noi potessimo competere era nella logica dell'organico che avevamo messo su che noi potessimo addirittura essere la primissima è enormemente al di sopra delle prospettive estime c'era qualche persona e non parliamo di semplici tifosi osservatori esterni parliamo di agenti persone che sanno come funzionano queste cose ci davano come scontato che noi potessimo competere dalla terza o dalla quarta piazza in giù potessimo essere la prima delle ultime a competere invece direi che prendendosi anche dei rischi importanti guardando alla produzione di giocatori e non al consumo per vincere la prossima partita facendo lo schema 36 con 7 giravolta arrivare a questa cosa direi che sia un grande premio non solo economico soprattutto al progetto che Gian Cesare Muscolino che Giuse Campisi che Sergio Zumbo che il sottoscritto hanno messo su e quindi potrà essere anche motivo di rilancio del settore giovanile che già c'è ma lo è assolutamente è chiaro che l'attività giovanile non può viaggiare sull'immediatezza c'è bisogno di tempo però direi che la convocazione di John Lupusor in autunno al Raguno Under 18 direi anche guardando non all'immediato di questa stagione ma al recente passato la bella affermazione come MVP Under in DNC di Antonio Smorto dimostrano assolutamente quanto bene lo staff della Viola in ambito giovanile abbia già fatto direi che più che essere un'occasione di rilancio è uno sprone anche per per l'attività giovanile a intendere perfettamente che questa è la strada giusta